Cari proprietari, oggi vi parlo della sterilizzazione della gatta e risponderò a tutte le vostre domande sull'argomento. La domanda che mi fate più di frequente è perché sterilizzare la gatta? Quali sono i pro e i contro? La sterilizzazione della gatta è quasi obbligatoria a causa delle sue manifestazioni comportamentali quando va in calore. Inoltre la gatta non va in calore una o due volte all'anno come la cagna, no, va in calore di continuo finché non si accoppia. E' questo il motivo per cui poi queste manifestazioni comportamentali sono così insopportabili. Quali sono queste manifestazioni? Innanzitutto la gatta in calore incomincerà a miagolare insistentemente tutto il giorno e tutta la notte. Giustamente cerca di richiamare le attenzioni del maschio e quindi il suo tentativo è un tentativo veramente disperato. Oltre a miagolare si struscerà su qualsiasi cosa, proverà a rotolarsi per terra, strusciarsi sugli spigoli, strusciarsi su di voi. Quindi veramente è una gattina che non ha pace. E ovviamente in questo periodo si avrà una riduzione dell'appetito e dimagrimento. Questo è decisamente insopportabile se la gattina vive solamente in casa. Ma se la gattina vive fuori qual è il problema? Il problema è che tornerà gravida tutte le volte che andrà in calore e potrà fare anche 2-3 cucciolate l'anno. Considerando che una gattina solitamente fa dai 4 ai 6 gattini a cucciolata, in un solo anno potreste ritrovarvi con 12 gatti. E' davvero qualcosa di insostenibile anche per un motivo di sanità pubblica. Inoltre con l'accoppiamento rischia di contrarre molto facilmente le malattie infettive, felv e fib, che sono la trasmissione sessuale e anche con morsi, graffi, ferite che derivano dall'accoppiamento. Se invece vive in casa e fa dei calori silenti, quindi c'è una piccola percentuale di gatte che non hanno queste manifestazioni comportamentali che vi raccontavo prima, e hanno dei calori detti silenti, quindi la gatta va in calore ma non manifesta il suo calore. Ecco che in questo caso potreste essere tentati da tenerla intera, quindi non sterilizzarla, ma andrà incontro molto 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 probabilmente a piometre, quindi raccolte purulente in utero e soprattutto tumori mammari che nella gatta sono estremamente maligni. Ecco che per tutti questi motivi la sterilizzazione nella gatta è difficilmente evitabile. È infatti fondamentale proteggere dalle malattie infettive, evitare la proliferazione di gatti continuamente, quindi per un problema di sanità pubblica evitare di riempire i gattili, ed è anche importante evitare tutte queste manifestazioni di calore che comunque provocano un disagio nella gatta, perché la gatta ha tutte queste manifestazioni, perché in natura si accoppierebbe tutte le volte, nel momento in cui si accoppia le manifestazioni finiscono, ma impossibilitata all'accoppiamento, ecco che queste manifestazioni continuano sempre con una pausa di due, tre, quattro giorni tra un calore e l'altro. Potete infatti comprendere quanto sia un disagio per la gatta essere costantemente in calore ed essere alla costante ricerca del maschio. Ovviamente in natura tutto questo non succederebbe. E veniamo adesso alla domanda delle domande, cioè quando sterilizzare la gatta? Il dubbio che avete di solito è se aspettare il primo calore o sterilizzare prima del primo calore. Quando è giusto farlo? Adesso vi spiego il ragionamento che ci sta dietro a questa scelta. Per evitare di andare incontro alle manifestazioni del calore che sono così drammatiche e disturbanti per il proprietario, perché non si dorme, ve lo dico già, se la gatta va in calore non dormite di notte, ecco che in accordo col veterinario solitamente si sceglie di sterilizzare la gattina prima del primo calore. Visto che il primo calore tendenzialmente in media viene fatto a sei mesi di età, ecco che si sterilizza poco prima di questa data. Alcune gattine però anticipano perché sono precoci e quindi vanno in calore addirittura a cinque mesi e in quel caso lì siete fregati. È vero che alcune gatte, soprattutto di taglia gigante, potrebbero posticipare, quindi andare in calore addirittura a otto mesi, dieci mesi. Considerate anche che il fotoperiodo ha un'influenza, quindi a seconda di quando nasce la gattina, di solito i primi calori si manifestano in primavera. Raramente una gattina per la prima volta va in calore a dicembre o gennaio, ok? Quindi c'è anche tutto questo discorso da tenere in considerazione. Però si tiene di base l'età dei sei mesi per convenzione. Aspettare il primo calore sarebbe consigliabile solamente se il proprietario è cosciente di quello a cui andrà incontro e è molto motivato a cercare di avere quei vantaggi dello sviluppo sessuale che sono una maturazione cognitiva che va a termine, quindi la gattina da cucciola diventa adulta e sicuramente anche una completezza per quanto riguarda lo sviluppo fisico. Aspettare il primo calore quindi dal punto di vista medico non sarebbe sbagliato. L'importante è che sappiate cosa andate incontro e soprattutto essendo una gatta poliestrale stagionale fa tanti calori, vi dicevo prima con piccole pause in mezzo e quindi dopo per andare a fare la sterilizzazione una volta che ha maturato sessualmente bisogna andare a prendere proprio quei giorni di pausa tra un calore e l'altro quindi anche dopo organizzarsi col veterinario per sterilizzarla in questi momenti di pausa non è semplicissimo questo ve lo dico perché sarebbe l'ideale sterilizzare quando la gatta non è in calore è vero anche che molto spesso voi aspettate il primo calore poi non resistete perché state impastendo, non dormite la notte e quindi ci portate la gattina in calore da sterilizzare si può sterilizzare la gatta quando è in calore? certo che sì, l'intervento chirurgico è possibile tecnicamente è solamente leggermente più complesso c'è una maggiore irrorazione delle ovaie e dell'utero e ovviamente una maggior possibilità di complicanze legate al sanguinamento ma per poterlo fare si fa quindi anche se di fatto sembra assurdo legare la parola urgenza a una sterilizzazione che è un intervento di base programmabile spesso ci capita di fare delle sterilizzazioni gatta in urgenza perché il proprietario sta impazzendo ovviamente alcuni chirurghi inesperti possono rifiutarsi di sterilizzare la gatta in calore perché non si sentono sicuri nel farlo ed è meglio così cioè piuttosto che fare qualcosa in cui non si sentono sicuri è meglio evitare di fare la sterilizzazione in calore quindi non potete obbligare un chirurgo a sterilizzare la gatta in calore ma per esperienza vi dico che esistono tanti chirurghi che sono in grado di fare anche la sterilizzazione della gatta in calore se la vostra gatta poi è una gatta che esce è facile che la prima volta che va in calore vi torni a casa incinta e quindi è possibile sterilizzare una gatta incinta? per lo stesso discorso che vi facevo per la gatta in calore ovviamente l'intervento è più complicato ma la sterilizzazione è effettuabile anche incinta spesso addirittura il proprietario non lo sa neanche che la gatta si è accoppiata e noi quando andiamo ad aprire l'addome troviamo una gatta gravida senza che nessuno ce l'avesse detto o prospettato negli stadi iniziali della gravidanza ovviamente a termine si vede che la gatta è incinta ma a volte apriamo e abbiamo un utero con piccole palline che sono i piccoli feti allo stadio veramente iniziale e in questo caso si decide col proprietario quindi si telefona in corso d'opera al proprietario e si dice cosa vuole fare richiudiamo e portiamo avanti la gravidanza o la sterilizziamo questa è la cosa corretta da fare informare il proprietario se il proprietario dice no no sterilizziamo ovviamente si va a praticare una sterilizzazione con l'asportazione anche dell'utero quindi in questo caso non solo delle ovaie come si fa di solito e si va a interrompere di fatto la gravidanza questo per dirvi che così come è fattibile un intervento su una gatta in calore è fattibile anche un intervento su una gatta che è accidentalmente incinta un veterinario invece si può rifiutare di praticare l'aborto su una gatta a termine gravidanza questo per motivi etici perché nel momento in cui voi portate una gatta che ha quasi finito la gravidanza quindi ha un bel pancione è veramente terribile per noi veterinari aprire l'addome e andare ad asportare anche i gattini che sono quasi formati quasi a termine e quindi dobbiamo poi fargli addirittura il Tanax all'interno della placenta è veramente brutto io l'ho fatto in passato nella mia vita obbligata a farlo e vi assicuro che se posso scegliere vi dico di no altra domanda che mi fate molto spesso è una volta che una gatta ha partorito e quindi ha la cucciolata di gattini magari vive fuori dall'andagia quanto tempo abbiamo per sterilizzarla prima che torni a essere incinta? purtroppo la gatta anche con la cucciolata può avere l'istinto ad accoppiarsi e tornare in calore dopo un mese dal parto ecco che spesso si deve andare a sterilizzare la gattina quando c'è ancora la cucciolata i cuccioli hanno circa un mese di età onde evitare un nuovo accoppiamento ma in cosa consiste tecnicamente l'intervento di sterilizzazione della gatta? come vi dicevo poco prima si esportano solamente le ovaie alcuni veterinari per comodità o perché hanno imparato quella tecnica da tempo vanno ad asportare anche l'utero ma non è assolutamente necessario rende più lunga la procedura e anche più doloroso il post-operatorio quindi se si può scegliere si tolgono solamente le ovaie l'intervento prende il nome di ovariectomia e consiste ovviamente in un accesso addominale quindi un taglio ventrale sull'addome, sulla linea alba e da questo taglio ventrale vengono asportate solamente le ovaie se invece il veterinario vi dice che toglierà anche l'utero si parla di ovaristerectomia come vi dicevo l'utero non è necessario toglierlo perché una volta tolte le ovaie l'utero andrà incontro alla datorfia e scomparirà praticamente si riassorbe quasi del tutto e quindi non provocherà poi patologie in futuro quindi è assolutamente non necessario togliere l'utero alcuni di voi mi chiedono addirittura se è possibile fare la sterilizzazione della gatta in laparoscopia quindi con la telecamera che entra nell'addome è possibile tecnicamente ma nella gatta perde quasi tutti i vantaggi per cui si fa nella cagna ad esempio la tecnica laparoscopica infatti viene proposta nella cagna al fine di avere invece che un taglio lungo addominale due taglietti piccolini e soprattutto ridurre il dolore intra e post operatorio nella gatta il taglietto chirurgico è comunque uno piccolissimo e obiettivamente il dolore intra e post operatorio è quasi nullo inoltre la durata della tecnica in laparoscopia è quanto meno di 30 minuti come durata dell'intervento chirurgico mentre una gatta si sterilizza con la tecnica open in 15 minuti quindi i vantaggi della laparoscopia sono quasi del tutto persi nella gatta ovviamente anche considerando poi quanto è il costo di una laparoscopia rispetto a una tecnica open quindi il rapporto costo beneficio diciamo che viene un pochino perso inoltre si va a insufflare l'addome quindi è più complessa l'anestesia quindi io da anestesista la laparoscopia della gatta non ve la consiglio ma veniamo ad affrontare il pre e il post operatorio quanto deve stare a digiuno la gatta prima dell'intervento chirurgico? a digiuno di cibo dalla mezzanotte e a digiuno di acqua semplicemente due ore prima dell'intervento la gatta vi deve essere riconsegnata perfettamente sveglia e pimpante quindi non si portano a casa gatti addormentati ve lo ricordo per l'ennesima volta e nel momento in cui è a casa potrà riprendere le sue attività normali alcuni veterinari consigliano il collare di Elisabetta io non ne vedo tutta questa necessità sono pochissime le gatte che si vanno a leccare la ferita è ovvio che voi dovete essere proprietari attenti e quindi nel caso in cui la gatta si lecchi la ferita si andrà a mettere il collare di Elisabetta altrimenti non ce n'è un grosso motivo una volta tornata a casa la gatta potrà mangiare alla sera se lo cerca non sforzatela necessariamente a mangiare perché può mangiare anche la mattina dopo non succede nulla e anche la pipì potrebbe farla la mattina dopo quindi tranquilli non succede niente la pipì la farà l'importante nel postoperatorio per stare tranquilli è che la gatta sia bella vista, vivace che faccia tutte le sue attività normali poi che si faccia il suo pisolino per rientrare dello stress che ha provato durante la giornata ma è fondamentale che la gatta, ripeto, non sia addormentata potrebbe avere ancora un po' di difficoltà proprio accettivi quindi non capire bene le distanze quindi ovviamente tenetela lontano da finestre e balconi perché magari l'equilibrio non è ancora perfetto e anche i sensi magari non sono ancora tornati perfetti ma l'importante è evitare appunto che si possa far male soprattutto su balconi e terraffe i tempi di recupero quindi sono immediati infatti se si fa un'anestesia bilanciata come vi dico sempre che è importante che venga fatta il paziente si risveglia in pochissimo tempo e non dorme più tutto il giorno come faceva una volta non è necessario neanche l'antibiotico post sterilizzazione il veterinario probabilmente farà già la terapia analgesica e antinfiammatoria alla dimissioni e quindi di solito voi proprietari a casa non dovete fare nulla anche se è un intervento semplice possono esserci comunque delle complicanze vediamole insieme soprattutto se si è leccata può cominciare a trastudare siero o pus e infettarsi di corsa da veterinario vi darà l'antibiotico e controllerà che non siano saltati dei punti cicatrizzazione tardiva la gatta sempre perché si lecca porta ad avere una cicatrizzazione molto ritardata e quindi invece di chiudersi in pochissimi giorni ci metterà anche più di una settimana la gatta che si strappa i punti con i denti e quindi c'è il rischio poi conseguente di sventramento perché se si apre la ferita poi i visceri escono quindi è importante che non si tolga i punti se invece accedere non solo i punti cutanei ma i punti della fascia quindi i punti addominali potremmo avere un'ernia quindi praticamente è la parete addominale che cede non la cute, la cute resta integra e i visceri vanno nel sottocute anche questa è una complicazione bisogna rioperare la gatta e quindi bisogna ridare i punti nella parete addominale sedazione prolungata o dolore quindi la gatta che non si sveglia che quando si sveglia ha molto male all'addome in questo caso c'è qualcosa che non è stato fatto proprio a regola d'arte dal punto di vista anestesiologico e analgesico in tutti questi casi bisogna che riportiate la gattina dal veterinario a farla controllare per evitare il discorso dello strapparsi i punti molto spesso vengono utilizzati dei punti riassorbibili con una sutura che viene chiamata sutura intradermica in questo modo i punti non ci sono, proprio non si vedono e di conseguenza la gatta non se li può strappare è una soluzione meravigliosa per le gatte per evitargli così il collare Elisabetta evitare lo strappamento dei punti ed evitare anche di togliere i punti dopo dieci giorni cosa che ai gatti non fa molto piacere soprattutto se è una gatta un po' selvatica una gatta che non si fa manipolare è fondamentale richiedere i punti intradermici ovviamente il chirurgo non è obbligato ad acconsentire alla vostra richiesta però potete provare a chiederglielo per le gatte che vanno fuori mi chiedete spesso anche dopo quanto tempo può uscire perché una gatta che viene sterilizzata ed è abituata a uscire dopo poche ore incomincerà già a smiagolare davanti alla porta che vuole uscire come è il suo diritto fare cioè è stata abituata così non è che dopo potete dirle no adesso sta in casa quindi ovviamente c'è una necessità di liberarle il prima possibile sarebbe meglio tenerle 24 ore in casa ma io con tutte le gatte che sono andate fuori che sono abituate ad andare fuori capisco la difficoltà e ricordatevi che le gatte ad esempio randage vengono liberate in natura subito dopo la sterilizzazione quindi ci sono dei rischi maggiori ovviamente nel liberarle immediatamente perché appunto possono leccarsi e andare incontro a complicazioni anche infezioni della ferita però va un attimo considerato da gatto a gatto in base al loro comportamento le gatte semiselvatiche o estremamente agitate è difficile tenerle in casa per 24 ore quindi parlatele con il vostro veterinario e cercate di trovare un compromesso sapendo che potete andare incontro a complicazioni e arriviamo al punto dolente quanto costa sterilizzare una gatta e soprattutto c'è il modo di sterilizzarla gratuitamente? non sapete in quanti me lo chiedete quella della sterilizzazione gratuita ma come sempre vi rispondo che la sanità veterinaria per cani e gatti di proprietà è privata e quindi non si può passare dalla ASL per sterilizzare i propri gatti la ASL sterilizza solamente i gatti randaggi di gattile non può sterilizzare quelli dei privati a meno che non abbiate un amico o un parente che ci lavora dentro inoltre in teoria la sterilizzazione tramite ASL prevede che si sia il taglio dell'orecchio quindi le gatte vengono sterilizzate viene tagliato l'orecchio per indicare sul territorio che sono già state sterilizzate quindi non devono essere catturate quindi sterilizzare attraverso l'ASL rischiate anche di avere poi il taglio dell'orecchio ma visto che avere un gatto è anche una responsabilità non dovrebbe essere un problema per voi affrontare i costi della sua salute e quindi anche della sterilizzazione d'altro canto lo sapete già prima di prenderlo che andrà sterilizzato quindi non vedo quale sia il problema purtroppo soprattutto su facebook a volte leggo veramente dei totopressi e tutti i possibili scavotage per spendere meno ma come vi racconto sempre su questo canale c'è sempre un rapporto costo-qualità costo-beneficio quindi andare a risparmio e pensare che sia una cosa furba sterilizzare una gatta con 50 euro in realtà è un po' darsi la zappa sui piedi da soli perché un servizio di qualità ha comunque dei costi minimi è comunque una chirurgia addominale è consigliabile la presenza di un chirurgo idealmente anche di un secondo chirurgo per fare le cose proprio fatte bene e di un anestesista quindi è ovvio che se c'è tutto questo la sterilizzazione della gatta costa di più piuttosto che sterilizzarla sul tavolo della cucina in casa vostra da un veterinario che magari gli fa salvamento una sedazione in muscolo non la intuba non gli fornisce ossigeno e quindi poi dopo sono quelle gatte che dormono tutta la giornata quindi è questo per dirvi che ci sono varie possibilità di servizio ok? ci sono vari livelli qualitativi e la vostra spesa rispecchierà il servizio che avrete in cambio quindi se andate a spendere 80 euro per una gatta spesso andate a cercare anche la prestazione senza fattura perché so che lo fate quindi 80 euro in nero non sarà mai come il servizio di 200 euro fatturati ok? ci siamo capiti? siete ovviamente liberi di fare come meglio credete io non faccio i conti in tasca a nessuno e giustamente ognuno decide per sé ma non cercate di convincere la sottoscritta che di sterilizzazione ne ha viste un pochino nella sua vita che con 80 euro abbiate un servizio di qualità se avete delle altre domande su questo argomento fatemene nei commenti vi lascio anche il link in descrizione con l'articolo da leggere su blog in cui c'è un maggior approfondimento dei concetti e vi aspetto anche su Instagram ciao ciao